buonasera a tutti inizia una nuova serata di condivisione sulla numerologia attendiamo un attimo che la linea tocchi le persone che avevano in modo di collegarsi comincio a vedere dei primi collegamenti allora apro naturalmente ringraziando focus per questo invito per questa possibilità di condivisione alla quale tengo veramente tanto sono davvero contenta ogni volta che c'è la possibilità di portare la numerologia come via di armonia il cammino dei numeri come percorso che inizia dal proprio foro interiore dalla propria terra interiore e dona la possibilità di pacificare il proprio interno di riportare in armonia tutte le nostre parti e di portare questa modalità inclusiva anche nelle relazioni quindi riconoscerla anche alle altre persone oggi è una data speciale quindi abbiamo desiderato proprio uscire questa questa data perché 20 02 2020 ha naturalmente questa ripetizione tante volte della dell'energia del numero 2 prima di partire volevo fare gli auguri a Anna che compie gli anni a Carmen che invece ha inaugurato un nuovo un nuovo percorso della del suo cammino e avevamo un altro compleanno che è Angelina che ho visto poco fa quindi auguri e nel corso della serata vi dirò anche che cosa significa proprio compiere gli anni in un momento che come oggi fissa un'energia così quindi sto vedendo che già ci sono diversi diversi segnali di partecipazione bene comincia la numerologia non vede i numeri come quantità ma come qualità vede i numeri come essenze divine principi cosmici portatrici portatrici di una precisa energia che ha il potere di imprimere una certa vibrazione nella materia e quindi rappresenta in questo modo il ponte tra il mondo in manifesto il mondo delle idee e il mondo manifesto il mondo quello che a noi appare e quindi questo significa che tutto ciò che esiste sul piano della materia nel mondo manifesto in principio è stato un'idea allora se sono infiniti per legge matematica tra loro possono essere combinati creando infinite possibilità di combinazioni di codici di possibili codici di rappresentazione ciascuno di loro può essere ogni numero complesso può essere riportato all'unità un principio che si chiama somma teosofica cioè sommando ogni singolo numero viene riportato fino all'unità e ad esempio 2020 che il nostro anno 2 più 0 più 2 più 0 fa 4 quindi con questo sistema della somma teosofica noi possiamo ricondurre queste energie a 9 numeri fondamentali che sono le unità che assieme allo 0 costituiscono 10 la decade allora in questo percorso 0 è il punto che sta tra i numeri negativi e i numeri positivi quindi è il punto da cui l'uno fuori e inizia il proprio percorso di individuazione da 1 a 9 abbiamo tutto quanto un ciclo, tutto quanto un percorso dall'inizio al suo compimento quindi una data che come quella di oggi propone il 2 continuamente alternato agli 0 è evidente che sul 2 pone il proprio accento lo 0 espande quindi 20 è la prima cifra che noi guarderemo in una data il giorno così come il giorno in cui si è un momento importante quindi questo 20 è il primo che andiamo a osservare ha un significato particolare perché in un anno universale 2020 composto da 20-20 è evidente che pone una richiede di osservare in maniera particolare questa energia se 10 è la base che conteneva tutti i singoli numeri da poter combinare tra loro 10 rappresenta un numero speciale che è la decade che è la sacra tetractis era un numero sacro ripita questo archipo ci dice che è una completezza, una pienezza 20 è due volte questa pienezza e questa completezza un 20 che nel Zolkin, il sincronario Maya ha una parola che è Hun Winak Hun Winak è una parola Quechua che significa sia 20 che è uomo totale allora 20 che sono le dita che noi abbiamo nei piedi e nelle mani dice cercate ci invita a essere degli esseri completi pieni, totali perché è importante accade che si cerchi in esterno un completamento di quello che sentiamo non essere nella pienezza non essere nell'armonia c'è un sistema per andare ad avere delle conferme rispetto a quello che possiamo sentire del nostro essere quello che già abbiamo idea che sia un nostro punto di forza o quelle che sono le parti in cui sentiamo che c'è del lavoro da fare alle volte può essere utile un sistema di conferma questo sistema ci viene anche dalla numerologia attraverso la mappa numerologica ciascuno di noi in base al cognome combinato con la data di nascita ha un proprio tema una propria mappa è come se fosse la nostra colonna sonora per cui ciascuno di noi ha come un progetto io lo vedo proprio come un progetto di una cattedrale la cattedrale è quella che ciascuno di noi edifica vivendo quando è in sintonia con il proprio progetto con la propria scintilla divina ecco quel progetto quella mappa numerologica quel tema numerologico contiene il potenziale che noi abbiamo portato con noi per edificare quel progetto ecco che può in alcuni momenti essere importante fare una verifica e dire ok qual è lo stato dell'arte rispetto al progetto che io avevo tuffandomi e iniziando questo percorso sul piano della materia qua sulla terra ecco quando si fa una mappa numerologica si impara a fare una mappa numerologica o si che venga decodificata si ha possibilità di ricordare e di ritrovare e di verificare a quale punto e quale livello di integrazione quella mappa si sta la stiamo portando nel mondo alle volte non tutte le parti che noi abbiamo portato sono in manifestazione abbiamo bisogno di ricordarlo abbiamo bisogno di accettarle talune di queste sono manifestate nel pieno della loro luminosità altre invece hanno bisogno di essere lavorate di essere accolte di essere di essere illuminate e così questa questa mappa ci dà la possibilità di andare a ritrovare anche quelle parti per essere quegli individui totali di cui parlavamo quando la nostra mappa viene portata a massimo grado di manifestazione perché è tutta intera e perché ciascuna di numeri che ci caratterizza tenete conto che la nostra mappa ha almeno una decina di numeri fondamentali che ci caratterizzano è manifestata nella sua pienezza può comunque sempre essere affinata e portare i nostri numeri a un livello di vibrazione sempre maggiore questo è importante perché dicono che sa ok no è così dobbiamo collegarlo ok proviamo a vedere se così la proviamo a vedere se la comunicazione è un pochino più stabile è un po' mi dà un po' Claudio sì allora spero che la comunicazione adesso sia un pochino più stabile ok dicevo che c'è la possibilità di portare la propria mappa continuamente attraverso il lavoro su di sé a un grado sempre maggiore di pienezza e di vibrazione elevata instancabilmente lavorare sulla propria mappa sulla propria tecnica significa fare in modo che il nostro suono sia sempre di una elevazione maggiore sempre di una frequenza maggiore questo è un punto importantissimo molto più importante di quello che andremo a vedere dopo del significato dei singoli numeri questo punto avere chiaro che quanto importante sia far sì che ciascuno di noi possa portare in condivisione il miglior suono possibile il suono più puro possibile perché in questo modo sarà in qualche modo come un diapason un elemento che permetterà anche alle altre persone di far crescere spontaneamente così senza bisogno di fare nessun discorso spontaneamente produrrà un'elevazione del suono di tutti la nostra armonia interiore è uno strumento per aiutare anche le altre persone a trovare la loro armonia certamente un sistema per sentire un'armonia interiore è quella di essere in manifestazione dei nostri talenti dei nostri numeri perché i numeri della mappa di ciascuno di noi rappresentano dei talenti rappresentano delle qualità rappresentano delle potenzialità alcune già pronte per essere manifestate altre che devono essere lavorate e poi ecco portate a servizio a servizio di tutti del mondo in cui viviamo questa era una premessa per dire quanto importante è anche questo percorso che come altri percorsi altrettanto importanti ci dà la possibilità di avere un ritorno e un aiuto come fossero delle numeri che ci aiutano a ritrovare quell'armonia se per qualche motivo non l'abbiamo più a disposizione i numeri portano anche una sintassi un ordine un percorso che ci dice come per raggiungere un punto sia importante avere delle tappe così come nell'edificazione di uno stabile come la crescita di una pianta e così noi nella nostra vita con le nostre tappe allora l'uno è la partenza è l'energia pionieristica che parte con una grande sinta una grande voglia di esplorazione ha molto coraggio ha una grande velocità e inizia il cammino della dell'individuazione ma non può svolgere un cammino così tutto solo e proietta a se stesso a necessità di uno specchio proietta a se stesso in questa proiezione nasce il 2 l'1 e il 2 che è la madre dei numeri pari si uniscono e nasce il 3 possiamo dire l'esempio che di solito faccio è quello del seme che va nel 2 per nascere germoglio nel 3 ma recentemente mi si poneva l'osservazione sulla molecola d'acqua e quindi due molecole di idrogeno una di ossigeno unite generano l'acqua quindi questo 3 è così come la pianta così come un vino così come l'acqua qualche cosa che attraverso l'unione di due parti si manifesta nella sua interezza quindi quando si sente parlare di tornare 1 non significa tornare indietro dal 2 che è la polarità che è la dualità significa andare oltre affinché qualche cosa di nuovo si generi e quindi quel seme è rimane seme rimane potenziale fin tanto che non accetta quella trasformazione che avviene nel 2 che è un grembo e quindi il grembo di madre terra il grembo di una donna che dà una una nuova vita una nuova forma di vita in sé piena intera quindi 3 è un numero che noi ritroviamo nelle trinità in tante culture il padre lo spirito santo ma Iside Osiride e Horus Ida Pingala Shushumna abbiamo continuamente delle trinità che rappresentano una unità un'armonia ecco perché 3 è il numero dell'espansione dell'espressione della manifestazione di qualche cosa di nuovo restiamo su questo 2 affinché accada avviene una suddivisione una prima polarità si infesta quando un germoglio nasce e si forma un primo asse così come nel nostro corpo dopo l'incontro delle cellule una cellula uovo e una cellula spermatozoo si incontrano dopo la prima suddivisione delle cellule 4 8 16 32 si forma un primo asse centrale che sarà quello della nostra colonna altrettanto accade per una pianta quindi si forma quel primo asse che andrà giù in profondità costituire la prima radice e su inizioni rappresentare il tronco si genera un primo asse un asse con una polarità significa che è importante riconoscere quella polarità quella dualità che è quella che noi incontriamo nascendo in un'età dove c'è giorno notte fuoco acqua uomo donna riconoscere quelle polarità per trascenderle quando arriviamo a tre la polarità è stata integrata significa che siamo andati oltre il senso di dire che c'è una cosa giusta e una che è sbagliata che c'è una cosa una parte che ha ragione e una parte che ha torto quando questo accade e si va oltre una cosa che potrebbe rappresentarsi così si integrano due parti e si cominciano a vedere queste correnti questa polarità come forze complementari indispensabili affinché la vita proceda quindi quando adesso noi vedremo che nei numeri ridotti all'unità ci saranno alcuni con una prevalenza maschile altri con una prevalenza femminile in particolare sono quelli pari con una prevalenza femminile e di materia i dispari con una prevalenza maschile e di spirito ma è come nel Tao il simbolo del Tao nel bianco c'è un po' di nero nel nero c'è un po' di bianco quindi una prevalenza di maschile e una prevalenza di femminile ma anche qua parliamo sempre di correnti vitali complementari che nel loro succedersi garantiscono il perpetuarsi della vita e quindi non ne può mancare una perché solo in questo modo c'è il movimento allora in questa data in cui questo 2 questo femminile la madre dei numeri pari queste qualità che porta che sono della sensibilità della dolcezza dell'ascolto della cooperazione la dolcezza è epidermico ha in sé anche una parte da rettificare che invece sta proprio nella polarità cioè sta nel odio amore sta nella necessità di sperimentarla per poterla per poter andare oltre la mappa e i numeri ci insegnano così come la vita ci insegna che proprio le parti che più ci hanno sfidati diventano i nostri punti di forza le parti che sono state provocazione e che le abbiamo attraversate e che sono diventate nostre sono grandi punti di forza se noi siamo a momenti in cui ce l'abbiamo fatta quello è un nostro grande punto di forza è un luogo di potere quando ricordiamo la volta in cui sembrava durissima ma ce l'abbiamo fatta quello è un nostro punto di potere ed è nostro vuol dire che gli altri lo sentono e questo è un momento in cui funziona proprio così passa ciò che è nostro significa che io potrei imparare a memoria una certa cosa aver fatto un'esperienza simulata e parlarne e non passa oppure posso aver vissuto effettivamente un'esperienza e questa è diventata parte delle cellule e allora quella passa ecco che anche attraverso i numeri noi abbiamo la misura abbiamo il feedback di che cosa è già nostro possiamo semplicemente osservando sapere che cosa è rimasto da fare di quelle parti perché ciascun numero ci parla di una parte ci chiede ok questa esperienza quanto è tua quanto è già diventata cellule così io lo immagino proprio come un grande palazzo un grande palazzo con tante porte in cui si entra e in ogni stanza c'è un maestro che è un numero e che ci chiede di fare esperienza di una certa qualità entro nella stanza del maestro uno e l'uno mi dice quanto sei in contatto con la tua autonomia quanto sei capace di andare avanti sulle tue gambe quanto sei consapevole del tuo valore o quanto invece ti è necessario un feedback esterno di conferma del fatto che tu sia l'uno di valore quanto sei pronto a sostenere i tuoi principi e i tuoi valori con lealtà a difenderli quanto invece la personalità ti chiede ancora di essere quello che vince perché a mano a mano che si lavora su ciascuno di loro lo si raffina è sempre più rarefatto come usa la materia perché questo è un corpo senza questo io non potrei parlare ma ha una sorta di distacco amorevole distacco rispettoso distacco è libero è libero perché non c'è nessuna parte che lo possa condizionare è necessaria e va rispettata ma non c'è niente che possa comprarlo a quel punto l'uno si dà è la prepista che anche altre persone diventa importante perché ha una funzione pionieristica e ha imparato che non c'è la sfida continua con l'altro ma c'è la possibilità di lavorare assieme e dona fa dono dei propri talenti a quel punto quando si è misurato anche con l'insuccesso quando si è misurato anche con la possibilità del fallimento quando ha accettato e ha avuto esperienza da quello ha potuto non vergognarsi ma o perdersi ritrovare la forza di andare avanti è pronto per cambiare stanza è pronto per andare a misurarsi col due attraverso lo specchio con l'altro e qui la sfida diventa quella che il giorno di oggi ci pone con tanta evidenza perché la sperimentazione che fa se in luce è quell'energia dolce sensibile affettuosa capace di cooperare quando va in sfida quando va in ombra deve misurarsi con la dimensione del bisogno dell'altro e quindi gli manca l'aria se l'altro non c'è questa parte è importantissima riuscire a sentire quando si manifesta e riuscire a stare nella sensazione che genera me l'ha insegnata la mia gatta questa parte perché di solito non è comodo andarla a incontrare si preferisce essere forti si preferisce manifestare questa indipendenza questa autonomia questa tenacia il Don Quixote dell'uno invece il due si piega pensate come è disegnato l'uno tutto ad un pezzo a testa bassa che va al suo obiettivo il due è quasi inginocchiato con la ricurva e lì sperimenta l'assenza e questo noi lo sperimentiamo quando ci stacchiamo dalla fonte e iniziamo un processo di avvicinamento alla terra poi lo sperimentiamo quando usciamo dal grembo materno e quel cordone umbilicale viene tagliato quindi questa parte che la si voglia o o è qualche cosa che ciascuno ha respirato che tutti sentiamo e quindi entrare in contatto con quella parte di vulnerabilità ed avere la forza perché forse ci vuole più forza manifestare la propria vulnerabilità manifestare la propria forza la propria autonomia e e poter guardare in un momento di bisogno negli occhi l'altro di cui hai bisogno e sapere che c'è e sapere che avrà cura di te nel momento in cui ne stai avendo bisogno non perché sei debole ma perché è per amore nella purezza di questo tipo di amore che c'è la lo scambio e uno scambio forse mi sono fatta un po' prendere sei troppo spirituale ok sì sono andata su un significato profondo della degli archetipi che portano e come si traduce in una in una giornata così l'energia di quel due di cui vi parlavo dello scambio che che avviene tra due parti che si danno reciprocamente senza che vi sia una un un esercizio di potere una sull'altra ma nella libertà di accogliersi nel momento che si sta vivendo la rappresenta un giorno come questo ponendo l'accento su come vivo le relazioni come vivo le relazioni e come sono in relazione con la mia parte con la mia qualità di femminile interiore perché quella parte che noi possiamo rappresentazione con una relazione esteriore ha sempre a che vedere anche con la con la con la nostra interiorità col nostro maschile interiore col nostro femminile interiore e quindi questo due se a un primo livello è nella relazione di e di bisogno dell'altro a un livello superiore è il dono della relazione il saper accogliere e e e di una coccola di un abbraccio di una presenza dell'altro senza non poter vivere l'altro e a un livello ancora più alto che è quello del venti dell'individuo pieno dell'individuo completo è che nella propria pienezza si pone e attira nella propria vita un altro individuo che ha fatto lo stesso lavoro interiore quindi questa data di oggi ci porta tutti i numeri del femminile che essendo quelli ridotti all'unità i numeri pari 2 4 6 e 8 ce li porta tutti perché il totale di questa data è febbraio 2020 è 8 quindi contiene tutto quel percorso che parte da un femminile da una qualità di femminile bisognoso che entra in relazione di dipendenza per portarlo fino alla massima elevazione che vediamo nell'8 c'è c'è un'associazione tra i numeri e gli archetipi e tra gli archetipi numeri e le divinità allora questo percorso è un percorso che assieme a Giorgia Sitta una cara amica sorella portiamo portiamo assieme e a 2 è associata la Core la figlia che viene rapita e portata nell'Ade quando Core uscirà dall'Ade sarà diventata regina Persefone da 2 a 8 abbiamo tutto il percorso da il bambino bisognoso al sovrano al re del proprio regno ma non possiamo saltare una tappa per arrivare a essere re del nostro regno e potremmo quindi associarlo anche a quell'individuo completo di cui parlavamo prima dobbiamo aver attraversato tutte le tappe intermedie perché ogni numero contiene in sé la memoria dei numeri che lo hanno preceduto e quindi l'uno era il guerriero indipendente intraprendente il 2 è il fanciullo il grembo in cui avviene una trasformazione la tenerezza la capacità di cooperare sono persone che lavorano molto bene assieme agli altri perché non hanno necessità di supremazia riescono a essere dei mediatori e nel 3 abbiamo la nascita di qualche cosa di nuovo l'espressione l'espansione la comunicazione nel 4 la legge la materia e le sue leggi il radicamento la concretezza ed è l'energia di quello di questo anno perché il 2.20 riportato all'unità come energia è quella del 4 quindi avremo la capacità in potenza di riorganizzare tutte le questioni che riguardano la materia di dare un nuovo ordine una nuova una nuova sintassi nel 5 è la libertà è la libertà è la scoperta di qualche cosa di nuovo il muoversi attraverso i 5 sensi le persone che o sono nate del 5 o hanno tanti 5 nella loro mappa hanno questa grande dote la capacità di cambiare il viaggio l'espansione e anche la capacità di raccordare tutto quello che hanno incontrato conosciuto saputo nella loro vita per crearne una unità armonica mandalica un po' come un direttore d'orchestra che riorganizza capace di organizzare le persone e le cose nel 6 e anche questo 6 è presente in questo mese in particolare perché questo mese 2 porta le caratteristiche del 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 fanciullo dicevamo della sensibilità e della dolcezza ma dobbiamo andare a vedere qual è il mese 1 perché non è sempre uguale il febbraio dipende da in che anno stiamo guardandolo e quindi questo febbraio unito a 2020 in riduzione sempre per quella sottosofica che vi dicevo all'inizio fa 6 allora 6 è l'amore l'angelo custode la famiglia il 2 e il 6 nella successione dei numeri femminili sono i più femminili di tutti come qualità questo 6 è particolarmente accudente nutriente è legato alla bellezza all'armonia e quindi si porta bellezza e armonia attraverso l'arte attraverso l'aiutare le persone a ritrovare la loro bellezza quindi se non sto bene e c'è qualcuno che cura un medico un infermiere un operatore qualcuno che mi sta aiutando a ritrovare il mio benessere si sta occupando di 6 e quindi è molto legato al sociale se il 2 è più legato alla coppia il 4 alla famiglia intesa come siamo in una casa e viviamo insieme facciamo le cose della quotidianità insieme nel 6 c'è proprio il nido o con i figli o comunque con una proiettata nel sociale e allora nella nostra evoluzione andiamo avanti e c'è il 7 e il 7 è la saggezza è il 3 della materia il 3 dello spirito che incontra il 4 della materia 3 e 4 insieme creano quel 7 che ritroviamo nei 7 giorni di settimana il nostro settimo chakra che ci apre alla multidimensionalità le 7 note i 7 colori c'è questo 7 che rappresenta il primo compimento una prima pienezza chiede un un momento di silenzio perché è legato alla meditazione all'infezione a un viaggio interiore mentre il 5 esplorava con i sensi sul terreno rimuovendosi il 7 ha un'esplorazione verticale chiamato anche il go quella connessione con il cielo e la terra e l'8 che è il totale di oggi il totale è molto importante perché presenta il numero del destino cioè i bimbi che sono nati oggi hanno un destino 8 il cammino di vita è il seme in potenza da sviluppare quindi questo 8 per esempio è il numero che caratterizzerà come anno le amiche che hanno compiuto gli anni oggi che compiono gli anni oggi ed è l'energia che caratterizzerà invece per tutta la vita i bimbi che oggi sono nati la somma di tutto l'anno il giorno mese anno in cui siamo nati è il nostro cammino di vita per chi è nato oggi rappresenta rappresenterà invece questo articolare da oggi al 20 febbraio del 2021 l'energia dell'8 vi caratterizzerà quindi adesso che parliamo dell'8 è qualche cosa che ritroverete in questo anno l'8 è il sovrano chiede di entrare in contatto con il proprio potere personale di essere coscienti del proprio potere personale di sviluppare la tolleranza rispetto agli altri perché la sfida che l'8 porta è siccome molto severo si aspetta di solito tanto da sé e dagli altri quando è in contatto col proprio potere personale è in grado invece di ascoltare le opinioni delle altre persone così come ha il sovrano i propri consiglieri di corte ma è lui quello che in contatto col proprio potere personale sa qual è la giusta azione l'8 è della giusta azione perché è legato alla giustizia in un anno personale l'anno in cui si raccolgono i frutti di quello che si è seminato nel corso degli ultimi sette anni perché i cicli si ripetono di nove in nove quindi è un anno in cui si raccolgono i frutti è un anno in cui si ha una buona capacità di occuparsi delle questioni pratiche il numero della finanza il numero del mercato il numero che dà una buona capacità di organizzare le questioni pratiche quindi è un buon anno per aver scelto di andare in pensione quando passiamo al nove invece c'è il compimento si chiude un percorso si chiude un ciclo si raccolgono gli ultimi frutti più belli quando è riferito a un anno personale e si cominciano a tagliare i rami secchi il nove è il liberatore allora in molti testi si descrive il nove questo liberatore come colui che libera gli altri ma fa fatica a liberare se stesso in realtà ci sono diversi livelli c'è chi sente il sacrificio associato a un dolore sacrificio inteso come sto negandomi qualche cosa e sto soffrendo per qualche cosa che mi sono negato questo è più associato al numero sei quando il sei è in ombra fa fatica a dire di no e c'è un libro tra dare e ricevere è molto molto improntato nel dare e nel darsi ma quando a livello del nove c'è un potenziale di comprendere che la parola sacrificio ha un'etimologia che è rendere sacro credo che sacro sia attraversato una morte per risorgere e risorgere a vita eterna è sacro ciò che raggiunge quel grado di comprensione ed è come un effetto collaterale di un percorso interiore che si fa non è raccontabile quando però il nove arriva a sentire questo non comprende come non ci sia liberazione in sé a fronte della liberazione di un altro perché ha talmente chiara la intenzione tra gli esseri che non non la riconosce non la riconosce più perché può aver appena liberato un passero da una rete e lo vede volare via non sente la differenza tra il passero che vola via e lui che è lì fermo è come se lui fosse volato via non c'è distinzione questo è andare oltre la parola sacrificio e poter raggiungere quel grado di percezione del nove significa un eucaristico dono di sé e si sente con gli altri è per questo che le persone che hanno tanti nove nella loro mappa hanno alcuni momenti necessità di ritirarsi perché la possibilità è tale che è troppo forte quello che è bisogno di avere dei momenti di ritiro di chiudere la porta lasciar fare il mondo e il suo chiasso e ritrovare la loro connessione con ristabilire rispettare questo questo spazio questo spazio sacro che che sentono allora da uno a nove perché perché gli altri numeri ricondotti all'unità ridotti all'unità diventeranno questo solo a delle ottave diverse quindi prendiamo il 5 per esempio perché è il punto di passaggio tra quattro numeri che sono prima e quattro numeri che sono dopo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 è il ponte infatti nelle lame dei tarocchi è il papa il pontefice il ponte tra quelli che sono più legati alla fase di individuazione e quelli che sono più legati a una dimensione di maturità che porta a una spiritualità crescente fino a arrivare a quel punto che vi descrivevo del 9 ora questo 5 a un'ottava superiore lo troveremo nel 14 sopra ancora lo troveremo nel 23 perché come se noi fossimo arrivati fino a 9 e poi 10 11 12 13 sempre per somma diventeranno ancora 1 2 3 e 4 ma non sarà lo stesso 1 da cui è pareto perché 10 in sé ha la memoria tutti i passaggi che abbiamo visto di questa sintassi che sono dall'alfa all'omega dall'a alla z dall'1 a 9 tutto quanto il percorso allora 14 non ha lo stesso senso del 5 oltretutto fa parte di quei numeri speciali ci sono alcuni numeri che non andranno condotti all'unità o quantomeno vanno segnalati come numeri speciali questi sono i numeri doppi li sappiamo tutti i numeri doppi 11 22 33 44 sono numeri che hanno un significato particolare sono portatori di un'energia di una vibrazione particolarmente elevata viviamo a quel grado di manifestazione se la nostra struttura è in grado di riceverla perché se non siamo in grado di reggere quell'energia la vivremo semplicemente ricondotta all'unità gli altri numeri che invece sono considerati speciali sono 13 14 16 19 ciascuno di loro è speciale sono chiamati carici perché ha un aspetto da sciogliere un aspetto che riguarda la materia la materia il 13 perché è in riduzione 4 invece per quanto riguarda il 14 ha un aspetto da sciogliere che riguarda i sensi può dare una certa frenesia o anche in concludenza oppure deve comunque incontrare i sensi e viverseli non più come qualche cosa che mi tiene legato a questo piano di manifestazione ma l'umento che mi serve per trascendere i sensi e attraverso i sensi incontrare il divino i numeri speciali sono chiavi che permettono di accedere a un piano di consapevolezza superiore è evidente che devo essere pronto per poterlo fare se no è semplicemente ricondotto all'unità fin tanto che un giorno ci sarà qualcosa nella vita che come un detonatore mi aprirà la coscienza ci sono fatti che capitano o momenti di vita l'esempio del popcorn mi piace tanto in cui un chicco di mais a un certo punto è un popcorn non può tornare indietro è un popcorn è un'altra cosa allora questo passaggio di coscienza ti permette di cogliere una nuova mappa della realtà cioè non è cambiato niente tu sei che hai la possibilità di vedere su un altro piano di manifestazione la realtà se andiamo oltre ancora al 23 23 è l'unione del 2 che è la madre dei numeri pari e del 3 che è il pari dispari questo perché per i pitagorici l'uno era considerato il pari impari né pari né dispari perché se lo sommi con i pari diventa dispari se lo sommi con un dispari diventa pari quindi 2 e 3 questa prima incontro della primo dei femminili del primo dei maschili uniti generano il 5 che è il numero della vita dell'esplorazione avete presente l'immagine dell'uomo vitruviano quando l'uomo è in piedi con le braccia a croce è dentro un quadrato quando alza le braccia apre le gambe è nel cerchio questo momento di elevazione di apertura è il passaggio dal 4 al 5 il momento in cui inizia a esplorare la vita numero di grande vitalità allora guardo se ci sono delle altre domande a cui magari rispondere allora ok i numeri palindromi c'è tra le domande allora è chiaro che non è che si può fare una mappa in dire considerate che per preparare un tema numerologico completo sia la mappa con la data di nascita che un'altra mappa che si chiama bussola personale che è quella in cui si vedono quali sono tutti i flussi attivi in un certo periodo di tempo normalmente si esplora l'anno personale con i quadrimestri personali perché ogni anno ci chiede qualche cosa di particolare così come questo anno universale chiedendo qualche cosa di particolare con questo 20-20 di lavorare sulla nostra pienezza abbiamo attraverso proprio in questo mese di febbraio una data palindrome 0-2 il 2 febbraio 0-2 0-2 20-20 è come se mettessimo uno specchio e 20-20 si specchia in 0-2 0-2 no? allora quando ci sono queste date palindrome sono sempre con un potenziale particolare che portano e spesso accade anche di vederli nelle date non so le 13 e 31 le 21 e 12 ecco in questo ultimo periodo di tempo per quello che è il mio piccolo osservatorio dal 2012 con un'intensificazione sempre crescente ma nell'ultimo periodo è ancora accelerata c'è un'intensificazione di questi numeri allora è chiaro che quando noi attiviamo un codice di comunicazione l'universo utilizza questo codice per comunicare con noi affinché noi siamo nel nostro cammino affinché ciascuno sia esattamente nel punto preciso in cui è chiamato a essere e queste date sono dei codici che parlano a ciascuno secondo propria rappresentazione cerco di spiegarmi i numeri abbiamo visto che hanno ciascuno un loro significato il 4 2020 che in riduzione fa 4 è il numero del costruttore della materia con le sue leggi non è lo 4 per ciascuno di noi primo perché per noi il 4 sarà in una posizione di sfida nella nostra mappa cioè vissuto non come costruttore ma come prigioniero perché ogni archetipo dicevamo vibra in luce o in ombra come facce della stessa medaglia luce ombra sono come palmo della stessa mano e ciascuno di loro ha vizi e virtù quindi non c'è uno giusto uno sbagliato ritorniamo all'inizio quando si diceva siamo qua per andare oltre questa parte questa separazione questo giudizio questa è una matrice che si sta disgregando per cui l'aspetto di provocazione del quattro è quello del prigioniero se qualcuno ha l'energia del quattro come prigioniero è chiaro che vivrà questo anno in una ma diversa rispetto una persona che ha questo quattro dei suoi talenti più forti questo è evidente poi c'è un altro aspetto che cosa rappresenta i sogni ciascuno di noi sogna e un sogno ha un significato simbolico ma quella rappresentazione per ciascuno ha un valore particolare perché per qualcuno può lasciare una sensazione che è è gradevole per altri può lasciare una sensazione che non lo è affatto e quindi io non sono dell'idea che sia e comunque io non lo faccio di dire ok questo hai visto questo e questo ha quell'ambito in cui sta chiamando richiamando l'attenzione ma ciò che significa per ciascuno di noi credo che non ci sia nessuno che abbia il diritto di decodificarlo ma che sia importante sentire che cosa rappresenta per ciascuno il fatto del 3 e del 4 che era questo mi sembra che sì l'alternanza di 3 e 4 4 3 allora tenete conto di una cosa che quando c'è un numero con il 3 davanti il 3 espande l'energia dei numeri che seguono e quindi è giustamente importante anche vedere con quale ordine si manifestano ha un'importanza sapere quale cioè vedere che il 3 davanti ha una rappresenta un'espansione della cifra che segue dopo si possono leggere anche in questo modo sì dicevo per preparare una mappa con corredata di bussola c'è un lavoro da fare che è almeno un tre quarti d'ora un'ora di preparazione io non preparo le mappe con un programma le preparo a mano per me è un momento sacro perché è il momento in cui si comincia a preparare una mappa e si entra nel mistero della persona e si fa un altro atto inclusivo cioè noi abbiamo una parte razionale logica che è il nostro emisfero sinistro che sa che per fare una mappa deve prendere il nome il cognome in base alla tabella pitagorica c'è una corrispondenza la lettera corrisponde a un numero e poi sappiamo che si prendono prima le vocali poi le consonanti poi tutte insieme si è una data di nascita c'è un percorso che è la parte razionale che sa come fare poi però si attiva quell'altra parte che è quella intuitiva che è quella creativa e allora queste due parti insieme permettono di decodificare una mappa senza aspettarsi nulla lasciando proprio che siano i simboli a comunicare e allora mentre la prepari vedi che ti colpiscono delle parti io uso i colori e consiglio a tutti di usare tanto i colori perché sviluppano appunto creativa ed hanno un effetto immediato dell'energia perché quei numeri che vi dicevo da 1 a 9 hanno una loro corrispondenza cromatica e quindi l'1 corrisponde al rosso proprio fino al 7 come i chakra l'1 corrisponde al rosso il 2 all'arancione il 4 al giallo il 4 al verde il 5 al turchese il 6 al blu o indaco il 7 al viola l'8 al magenta e il 9 è il color oro quindi tradurre i nostri numeri con quegli impatti cromatici ecco che ci dà un'idea anche dell'energia che sono di cui sono portatori quindi questa è la ragione per cui non non è possibile così sì magari se fossimo in osteria così uno diceva che numeri saltano fuori giocando ma se si entra nella nella propria mappa è un ingresso sacro sacro quando si prepara sacro quando lo si condivide perché c'è veramente una emozione molto molto forte nel ritrovare queste parti sono impressioni importanti da da sentire e c'è proprio quasi una tenerezza incredibile quando si entra in contatto con quelle parti che magari dicevi non so incontri un un amico un'idea e ti rendi conto che era da tanto che non vi incontravate e senti dentro quasi uno struggimento però dopo siete lì e quindi ascoltare la propria mappa davvero può dare questa sensazione e discutere una mappa significa almeno un'ora un'ora e un quarto volevo vedere se c'erano delle altre domande alle quali magari dare una risposta io volevo farvi vedere un'altra cosa ancora e mi dite se l'audio funziona bene c'è una una cosa di cui avevo in animo di parlarvi se adesso io non sto vedendo delle domande per cui vado avanti così poi se ne arrivano magari le prendiamo in considerazione allora forse esagero ma ho bisogno di farvi una cosa che è questa ogni data porta una energia di potenzialità da esprimere e porta anche una sfida allora questo mese in particolare ha una sfida quasi costante ad esclusione dei giorni che hanno come valore 3 o 3 o in riduzione sono 3 perché si portano tutte le il giorno il mese e l'anno si riducono all'unità si fa una cosa di questo tipo allora questa oggi è così ok ce l'ho fatta allora il 20 del giorno diventa 2 il 2 del mese resta 2 ed è 4 il giorno totale 8 come dicevamo il valore di giornata 2 l'inizio del femminile al massimo del femminile quando si calcola la sfida di un giorno si va per riduzione fino adesso abbiamo fatto delle somme significa che facciamo una cosa del genere giorno me e anno in questo ordine si sottraggono uno dall'altro sempre il più grande meno il più piccolo e quindi 2 meno 2 è 0 4 meno 2 è 2 e si fa quell'ultima sottrazione 2 meno 0 2 significa che tutto questo mese ci chiede di sperimentare il 2 e allo stesso tempo ci chiede di incontrare anche i lati in ombra del 2 se il 2 è in luce il fanciullo quando è in ombra è l'orfano il suo tema è l'abbandono è il rifiuto è l'ansia intanto è caduta una dalla porta è magico focus 3.0 quindi questo mese è un mese speciale per essere consapevoli delle nostre scelte del fatto che attraverso le scelte noi creiamo la nostra vita e quindi il 2 che è anche la polarità ci chiede di essere in contatto col nostro discernimento con la nostra capacità di discernere e di scegliere che cosa noi perseguiamo qual è la stella a cui tenere fisso il nostro il nostro fuoco e questa stella questo anno in particolare ci chiede di tenerla puntata su quel essere totale sull'integrare le parti di noi che sono da integrare sul ridimensionare le parti che invece ci hanno visto identificarci con con quell'archetipo no se magari quell'energia c'è un'energia particolare o particolare di un numero particolare nella nostra mappa nel quale io mi sono identificato che può essere l'uno l'otto l'otto per esempio questo sovrano no questa dimensione che diventa bisognosa di avere tutto quanto sotto controllo il governo di tutto se sono identificata in questa parte e sviluppo intolleranza verso chi non ha questo tipo di visione ecco che posso contattare quella parte e riportarla in luce lasciare il giusto spazio e sviluppare le parti che invece sono sono più più carenti richiede coraggio richiede andare a vedere delle parti che non delle volte non si avrebbe voglia di andare ad incontrare e poi ti accorgi che quella parte magari la stai temendo perché è molto arrabbiata di non essere stata vista o ascoltata e appena è vista e ascoltata le possono cambiare moltissimo quindi questo è un po' l'augurio che che mi sento di fare a ciascuno di noi di riuscire a stare per quello che è possibile anche davanti a quelle parti a cui non avremmo tanta voglia di dedicare attenzione eppure poterle amare poterle incontrare poterle accogliere svilupperà una grande forza una grande integrità un grande relazionarsi non per bisogno ma in libertà dal bisogno questo muove verso verso la libertà libertà di essere libertà di essere chi siamo venuti per essere e libertà concessa agli altri di essere esattamente chi sono venuti per essere accettando per la loro gioia anche quando non comprendiamo il senso di determinazione scelte perché vuol dire che non c'è aspettativa quindi in assenza di giudizio in assenza di aspettativa e di rientrare in contatto con questa parte accogliente questa parte di femminile morbido uomini nella capacità di custodire la forma nuova che continuamente prendiamo vivendo se la vita è mutamento continuamente ci sono forme nuove che che assumiamo di cui siamo noi custodi questo otto lo sento come lo stesso l'allevatrice la sage femme francese l'universo chiede che siamo in grado di essere tutto la forma nuova che nasce il fanciullo che sta nascendo la madre che lo sta giocando l'ostetrica che sta aiutando affinché ciò avvenga e la vita che si sta manifestando buona nascita a tutti e conto che ho chiesto di volare un po' alto è stato bellissimo volare volare insieme con i piedi per terra ben radicati per portare qua su questo piano tutte le meraviglie che quando respiriamo quell'aria rarefatta dei fondi stili possiamo percepire e portare qua e la portiamo qua negli sguardi nel sorriso nella vita di tutti i giorni grazie per aver seguito c'è un sito cui pubblico degli articoli in questo ci sono delle conferenze che faccio in giro per l'Italia per poter parlare di questi temi per poter parlare di come il cammino di della propria armonia sia in realtà un dono straordinario e attraverso questo poter manifestare un mondo migliore perseguendo la giusta azione quella che ci fa sentire ci fa sentire bene quando l'abbiamo compiuta il mio sito al mio nome ci sono diversi eventi che portiamo che porteremo in giro per l'Italia in forma anche di semiferenziali di formazione della scuola numerica di condivisione anche così nei posti in cui veniamo assieme al mio compagno che è Claudio Selleri e perché assieme abbiamo creato la scuola numerica e desideriamo condividere questo tipo di di cammino dei numeri grazie davvero grazie a focus grazie a Enrico ad Antonio a Giorgio e a tutte le persone che permettono che questo progetto continui una serena notte grazie grazie a Giorgio a Giorgio a Giorgio a Giorgio a